La UIL chiede una tassazione diversa per la regione Abruzzo, un taglio alle tasse locali. Segretario, tra l'altro l'Abruzzo è una delle regioni più penalizzate da questo punto di vista e soprattutto Pescara. Sì, tutte le regioni del sud sono penalizzate da una fiscalità più pesante, paradossalmente, quando avrebbero bisogno invece di un fisco più leggero per attrarre investimenti. L'Abruzzo va sopra la media nazionale con Pescara, paga oltre 2.000 euro l'anno a cittadino di tasse locali. Va sopra in tutte le province, tranne l'Aquila, per quanto riguarda l'addizionale regionale IRPEF e l'addizionale comunale. Noi chiediamo alla regione, siccome sta per uscire dal commissariamento della sanità, che ci è costato un di più di tasse, raggiunto l'obiettivo di restituire quel di più di tasse. Gradualmente, perché siamo coscienti che il bilancio ha le sue difficoltà, però integralmente... In prospettiva, come si può però tagliare la fiscalità in Abruzzo? Il taglio maggiore che va fatto, primo, è quello del 0,50 in più di IRPEF che paghiamo e dell'IRAP in più che pagano le imprese a causa del vecchio deficit della sanità. E ovunque, regione comune, è ora di non avere più l'aliquota secca. Non è giusto che tutti paghino la stessa cifra, ma ci siano gli scaglioni di reddito, come vuole la civiltà fiscale.